ci ha pensato per tre anni ma alla fine leonardo pieraccioni ha deciso sposerà laura torrisi la sua moglie bellissima come recita il titolo di un fortunato film del regista e attore toscano laura ha accettato ma è ancora top secret la location del matrimonio al quale è certo parteciperanno soltanto pochi e intimi amici della coppia che non ha ancora deciso nemmeno dove andare in viaggio di nozze ma per laura ciò che conta è il fatidico sì sospirato da leonardo un po' di nozze ma per laura ciò che conta è molto importante